Ciao a tutti ragazzi, sono io, il Granate Papyrus! E siamo tornati a questo nuovo Gameplay, che? Mortal Kombat! Sass, svegliati fuori! Non lo faccio e non lo farò per tutta la serie. Sass, non posso credere che tu sia mio fratello! No, no, sono troppo pigro per scegliere un personaggio, non è casuale. Sass! Svegliati, cazzo! Ah, che personaggio è? Io sono a destra o a sinistra! Io sono quello più svegli... no, quello più pigro. No, non è quello più pigro! Ok, io ho già quello! Che è sto vivo con le spalle d'osse, quindi devo spammare! Spammare? No! Sass! Sass! Sono il tuo fratello, ricordo dove vuoi piacere! Come l'ho? Perché è il tuo fratello! Non hai mai voluto stare alla mia postazione di hot dog? Fai il tuo hot dog, fanno schifo! Faffa! 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 Ricorda, ci stanno guardando. No! Non fare cosa avventate! No, 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 no! No, scampetto! Noi siamo parte di questo! Oh, mio dio, questa ricetta è la mia posta di Arpius! Oh, cavolo! Mi hai aperto un mondo! Mi hai aperto un mondo! E Arpius! Sass! E Arpius! E' 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 Arpius! Così alto! Basta sfammare! No! Sass! Sass! Non ho la minima idea di che sto facendo. Sto imparando tutto sul campo. Cuore! Come ho sempre fatto con tutti i miei lavori. Ah, maledetto! Ti piace soffrire? Sass! Sass! Ti piace soffrire! Prenditela dall'orco posto, Sass! Non so quale sia! E' saltato qualcosa dall'acqua! Ti ha detto un bagno! Ah, attenzione! Prenditela! E' tutto il tuo, Sass! Ah! Ah, Sass! Fortuna che doveva... Stai parando a combattere, come un vero, guerriero! Fortuna che doveva essere un amichevole! Sass! Sass! Muore il fanno chiamato! No, Sass! Sono Sass! Sass! Muore il mezzo! Sembrava quasi una caccia all'umano. Perché? Scusa? Era più violenta di qualsiasi altra cosa che mai hai visto. Sì, è stato violento, Sass! E io di cose ne ho viste poche. Perché sono troppo piccolo? Vuole vedere il Sass! Voglio una rivincita. Cosa? Sass? Non ho mai una rivincita! Perché io lo rifincerò? E questo che cavolo è? Mi rifiuto, voglio sciogliere il mio personaggio! Ma sembra il più facile, eh? Non lo so, mi sembra... Non è giusto, è il tuo grande grosso! È il tizio più grosso del mio! Troppo, il mio grosso, Sass! Questo mio mi sa simpatico! Mi sembra... Sass! Sass! Ma siamo... Sass! Ma siamo a Snowdin! Eh? No, perché è saltato? Coreano! Tutto! Sass! 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 Ah! la faccia è un è un amalgamate non so cosa sia un amalgamate ma va bene non lo so l'ho sentito di ringgirlo no sei troppo impulsivo devi prendere la più comoda come me questa montagna si sta rivelando utile no no sarebbe troppo facile se andassi piano ricorda ne hai battuto una volta ora devo battere tira un milione di volte cosa ha fatto questo mi è saltato indietro muore ancora no che peccato io ho avuto non mi ha dato questa violenza ops non ha funzionato ah beh c'è andrò piano come l'ho detto divertito? no troppo ne ho detto questo gioco sess ok ora devo chiedere la vendetta dalla vendetta di sess e riusci a batterlo lui c'ha il pistolero cattivo ma il dio c'ho chi è questo? è un tesla umano dai dai che lo capisci sess dai no questo qua sembra davvero un essere molto cattivo la faccia che ne hai fatto è stata molto cattiva fortuna che non l'avete vista ma letto basta spammare ma ma letto che tizio è questo qua? ah molto cattivo ma letto potrebbe usare la pistola per finirla subito ma invece vuole andarci piano come faccio sempre io è proprio il mio tipo proprio il mio tipo di combattente oh e questi giochi ops sess maledetto il potere dello spam ha il suo potere hai ragione ops smettere e spammare che 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 è successo? siamo volati entrambi dalle parti opposte e ti tocca che faccia? ah credi ti schiaffoni tennoso mi hai mancato come hai fatto a mancarmi? non lo so sess eri troppo lontano forse questo tizio non prende dappertutto almeno penso muore muore ancora ah sess oh combo potentissima smettila mi spammare oh cos'è successo? male molto forte smettila oh come lontano al miglio sess oh sei ragione lo farò facile gioca di merda si fa si fa è molto pesante ok ragazzi quindi ora siamo tornati a essere mister L e iqlitz vi ricordiamo che io mister L faccio uno sforzo della miseria e io come davvero proprio sense non faccio assolutamente nulla esatto con la voce facile quella lì bassa come vabbè allora ragazzi quindi si noi speriamo anche i gameplay se se papai lo su vi piace non è caso seguite anche gli altri gameplay che facciamo tipo con i normali perché veramente ragazzi ci piacerebbe molto sapete che noi ci riteniamo si non sono deprimenti come pensiate si è vero ormai saremmo anche oh che bello questo calcio ops non era bello quel calcio che peccato si ma questo gioco che inutile è inutile gli avevo detto gli avevo detto prima di cominciare non ci gioco da quanto non ci giochi tu però continua continua a sostenere il contrario ma hai detto bastardo perché è come giocare un piccione con un piccione a dama puoi essere il migliore ma lui dirà sempre che io sto tenendo premuto il pulsante poi madonna miseriaccia spamma guarda ora madre miseriaccia ora goditi lo spam morto ancora prima di cominciare sono due mosse ma ora queste due mosse le spammo madonna ecco te ne due oh non è andata a buon fine che peccato venzo maledetto madonna vabbè questa quattro sei presa proprio comoda guarda proprio un nome inciso oh via nell'anca via nel cuore avrebbe tre fasce del cuore io poi conosco ma che leggi della fisica esistono in sto gioco non lo so ancora poi uno non so ma da quando da quando un proiettile rimbalza da uno dall'altro cosa è? siamo un pimbole umano ah ah hai sbagliato qualcosa si ho sbagliato a giocare a questo gioco bra no prenditerà in culo troia via via no stava per fa oh allora andava bene finchè non hai finchè non hai cominciato oh prendi il calcione in muso molto bello questo calcio ragazzi allora parlo un po' meno ma io ma perché perché alla gola che è curiosa prenditelo in culo tutto tuo il cazzo in culo troia tutto tuo il cazzo in culo è tutto tuo il cazzo in culo è troppo forte è troppo forte questo personaggio aurelio che mi sei cazzato oh misterio è troppo forte Ok ragazzi, sempre qui, se ne vediamo, a lui capita il suo personaggio preferito E a me capita il suo personaggio preferito Allora, qual è il mio preferito? Tutti i suoi torri, Scorpion in particolare Poi c'è il nero con le braccia cibermetiche Poi dopo c'è questo assassino qui No, non è vero, questo qua non mi piace Doro, ti piace Ma quello sì, ovviamente piace a tutti Trenate Ma non so se riesco a fare di meglio E già comincia con le braccia allungabili Alla texture troppo grande Alla texture troppo lunga Maledetto lezzino Vecchio aiutami, grazie nonna Sempre fidarsi delle nonizie Sì sì, soprattutto quando devi lanciarle Ah, guardate che Sto qua ha mossa di merda, non si capisce un cazzo C'è un montante che te lo tira col gomito Cos'è stato? Ah, giusto No, I'm sorry Ah, basta spammare Guarda che bel montante Guarda che bel montante Ti vedi questo mignolo? Non ti è molto difficile? Questo è il raggio di superman? Sì Che cazzo, non volevo saltare Allora, io no, 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 no Sono partito da te Però quando ti sei alzato Me l'hai parata come se fossi venuto dall'altra parte Dai Che, sulla difensiva? No, non sto sulla difensiva Non ha senso una mossa del genere Ho fatto un po' di kickboxing nella vita Non resisto a questa roba qua Eh beh Ma che gioco è? Che gioco è? Uno che non dovrebbe esistere È Mortal Kombat Le fisiche non ci sono Ops Ma io non ho visto che mi ha colpi Cioè, neanche io Cioè, un gioco è chiamato Shadow Fight Per il telefono Che hai fatto meglio di questo Con tutto Mazzimisericacia Sì, ma anche te però Te l'è sorti malissimo Ma che cavolo Ero in volo Cosa le fai? Muori, ancora? Ancora? È bello quando si spamma, eh? Sì, bello Esatto I cregati muori Maledetto Dopo un po' comincia a capirlo Cosa? Che quando spammo Tipo questo Mazzimisericacia Ancora Ops Vediamo un po' se la faccio Ah, bravo Ma non prendimi i calci in faccia Ma No, no, no No Si No Se non è culo questo Se non è culo questo Se non è culo questo Allora siamo due a due per Mister administrator Giusto? Due a due Ah, già è due Due a due Siamo due Siamo due Siamo due Ok, quindi, il gameplay è finito qua, diremmo che abbiamo finito, perché facciamola meglio di tre di solito, ma visto che ne ha già mette due E' come dire, fare la maglia di tre, è quando hai già due piedini alla fossa E' molto strano, perché generalmente Chris è molto più bravo di me a questo gioco Ce l'ho detto, non gioco, da quanto non si giochi tu Senti tutte scuse, tutte scuse, hai già le scuse pronte, vedo quando perde Ok ragazzi, quindi, il gameplay finisce qua e ci si vede al prossimo Di qualcosa Ciao a tutti ragazzi, sono io, Papyrus Fate visual che vi vergogno